ciao a tutti e bentornati con una nuova su indie game play it oggi volevo portarvi un nuovamente x4 foundation dopo aver riportato il video su l'espansione split ora vi voglio far vedere quello che sto facendo nella mia partita e tutto questo ha un duplice scopo il primo è mostrarvi magari un inizio un pochino alternativo oltre a quello che abbiamo già visto più volte poi che avete visto anche da gameplay channel cioè andare a scavare gli asteroidi scavando le piccole pietre luccicanti per fare i primi soldi ma anche per apprendermi a volta cosa sbaglio e cosa può essere perfezionato in questa piccola tecnica la cosa che ho notato sicuramente dopo l'uscita del dlc split vendetta quella di della presenza di più umani in giro e soprattutto di gente che veramente costa un botto quindi ho trovato anche gente che ha più specializzazioni quindi a diverse stelline nel curriculum diciamo e che costa veramente tantissimo questo costa 60 mila ma sono arrivato a vederne anche dei diversi milioni questo non ho ancora capito cosa faccia perché viene qui ogni tanto e spara con questa videocamera del gas comunque andando in breve che cosa ho fatto io come prima cosa ok sono andato e ho minato un po fatto un milione e nove circa dopodiché ho deciso di inserirmi nell'imprenditoria e ho acquistato partendo da questo settore che è il settore di terra terra argon ho comprato due navi una e la courier due una e la courier uno l'ho presa sempre all'interno di questo settore che è alla l'ho presa la darsena l'ho comprata l'ho costruita e dopo di che gli ho impostato il ruolo di andare scavare quindi io gli ho detto dato che ci troviamo attualmente in una stazione di raffineria di silicio quello di cui hanno bisogno loro il silicio quindi acquistano silicio e producono ovviamente i wafer di silicio infatti se andiamo qui sulla stazione facciamo panoramica logica possiamo vedere che loro producono dalle celle di energia alimentano i sistemi e il silicio producono al wafer di silicio e il wafer di silicio fa prodotto dove ho passato un po le stazioni e qua in alto vedete che c'è la fabbrica di microchip e se ci clicchiamo esce che loro utilizzano i wafer di silicio e le celle di energia quindi i modi per guadagnare sono o trasporto il wafer di silicio che diciamo che compro qui e li vendo la ma ho notato che in tutto questo viaggio ci guadagno circa 2000 quindi non è nulla al momento il metodo più ereditizio che ho trovato per fare soldi diciamo in background mentre io magari vado mi scavo altri diciamo pietruzze dagli asteroidi o faccio le missioni della quest principale perché ho ricominciato il metodo migliore è quello di scavare il silicio e venderlo direttamente qui un altro metodo puro sarebbe quello di costruirmi una stazione di raffinazione di di silicio e la produzione di va di di vafer di silicio tutta fatta da me però è un casino al momento per i soldi che abbiamo quindi io cosa ho fatto adesso ve lo faccio vedere perché fa parte della diciamo espansione della mia attività e qui aprite bene le orecchie e soprattutto se c'è qualcuno di più esperto che mi insegna un metodo migliore mi dice cosa se sbaglio qualcosa ben volentieri allora loro cliccando sulla nave possiamo andare a vedere le informazioni sulla nave e oltre a vedere tutte le informazioni anche l'abilità dell'equipaggio e tutto potete andare qua nel comportamento nel comportamento potete impostare il comportamento base auto estrazione nel settore il diretto qua estraimi silicio lui va scava e vende ignoro come si faccia cambiare questo ordine per impostato cioè se io adesso primo sulla nave gli clicco in un punto gli dico scava oppure dico vai alla stazione vai di qua vai di là lo fa prima di fare questo ordine quindi se qua non ci sono ordini che gli ho impostato io a mano fa questo ma onestamente non so come insegnargli altre cose più articolate come vendere comprare penso servano delle abilità vedete questi sono tutti probabilmente qua distribuisci merci probabilmente dovrò fargli fare o il commercio automatico ma mi servono tre abilità nel pilota quindi devo ancora approfondire quindi ora attualmente io ho due navi minerarie che vanno scavano il silicio e vengono qui e lo vendono portano un guadagno di circa se non ricordo male 40 mila ma ho anche scoperto chiedendolo sul forum di stimma sulle informazioni di giocatore c'è un pannello che dovrebbe essere registratività che mi fa vedere in base ai minuti trascorsi tutto quello che è successo nel mondo stazione di sacra ordine del pontefine c'è in costruzione presso nei vieti morati quindi se andiamo in questo settore vediamo la stazione in costruzione dalle navi di costruzione comunque abbiamo ottenuto dalla courier 36 mila due minuti fa e tre minuti fa la courier 2 ha fatto altri 36 mila quindi abbiamo fatto 70 mila più o meno tre minuti fa due minuti fa ora aggiungiamo la terza nave in modo che bene o male arriveremo a fare 100 mila ogni tot minuti quindi che cosa facciamo andiamo prendiamo premetto una cosa io sto ancora cercando in internet se poi sapete dove consigliatemelo pure vado a cercarlo un riassunto della storia delle precedenti precedenti capitoli di questo gioco ma soprattutto le razze perché è una cosa che uno entra in gioco e non ci pensa in realtà le razze sono ben caratterizzate siamo negli argon poi ci sono i boron i paranid gli split insomma è un po sullo stile star trek perché è molto profonda la lore ma non si trova praticamente quasi nulla in italiano comunque andiamo alla darsena alla darsena facciamo acquista nave faccio questo l'avete già visto sarebbe bello fare una nave media in grado di scavare di più vediamo se ce lo possiamo permettere estrattore minerario gli montiamo dei motori versatili generatore di scudi facciamo una cosa piccola le armi gli metto una trivella mineraria bella da 137 mila delle torrette mineraria mk1 ci sta manca il software gli metto computer attacco due così evitiamo ogni tipo di problema scanner a lungo radio scanner a polizia estensione computer buttamento gli butto dentro tutto e assumo persone ho preso anche una persona di servizio ma devo ancora capire che cosa serva esattamente comunque marino mi servono io importo tutto qui e mi costa 700 mila questa nave la facciamo come prova ovviamente mi ma mancano alla stazione delle componenti per scafi quindi adesso confermo l'ordine e la nave viene messa in produzione ovviamente dovremmo aspettare andiamo sulla stazione darsena argon nave in costruzione vediamo la nostra ci viene dato due minuti cosa significa che loro adesso stanno ordinando le merci per la costruzione della mia nave ovviamente poi sarà diciamo da aspettare un pochino e lo aspetteremo per intanto niente mi faccio un giro per la stazione aspettiamo un attimo e quando la nave pronta andremo a conclusione di questa avventura me la voglio vedere anche questa nave perché sono proprio curioso perché la prima nave media al momento in giro ci sono due navi piccole che stanno andando a a consegnare minare e consegnare e sempre comunque da questo menu qui che vi dicevo potete vedere quello che è successo alle vostre ai vostri possedimenti ora 13 minuti fa 6 minuti fa quindi ogni più o meno 5 6 minuti in teoria dovrebbero andare a scavare quindi ogni andiamo per eccesso ogni 6 minuti sono 70.000 crediti ovunque voi siate loro continuano a fare questo ora io non so e mi appello a voi chi conosce di più il gioco qualche bello questo chi di voi lo sa me lo dica insomma io non so se poi questo porterà a continuare a fare questo lavoro porterà a un calo di questo business cioè vi spiego sicuramente allora se questa raffineria di silicio poniamo caso io ne piazzarsi un'altra qua mia e vendessi il vaffer di silicio a un prezzo ridicolo pari poco più di zero loro lo vendono a un tot io lo vendo una cifra ridicola tutti quelli di cui hanno bisogno del vaffer di silicio li comprano da me questa stazione qui entra nel panico e non vende più e quel punto va in bancarotta e la facciamo chiudere questo è uno dei punti forti oppure possiamo decidere di portare mettere mille navi qui che scavano il silicio e li portano via loro cioè di cose da fare ce ne sono veramente una fucilata ovviamente una delle grandi difficoltà di questo gioco è che se non sapete qualcosa la pagate cara nel senso che ho scoperto che nel mio inventario io ho dei cristalli che sono instabili e sono cristalli illegali uscendo di qui ho dato un accelerato scoperto che la polizia mi stava chiamando per farmi spazionare il carico avendo dato una botta di booster così d'abitudine sono partiti due droni e ne ho iniziato a spararmi e quel punto uno che magari non coglie la cosa dice cavoli mi sparano già non capisco chi è rispondono al fuoco e si mandano un pochino a quel paese tutta quella che è la situazione del intanto il courier qua mi dice che appena ha consegnato altri soldi quindi quindi questa è una casistica diciamo un po particolare però che fa capire un minuto fa 36.000 vedete che poi le cifre cambiano perché ovviamente più uno compra più questo prezzo cioè più uno vende più il prezzo teoricamente scende dipende sempre dalle entrate e dalle uscite ora ultima cosa prima di attendere la produzione della nave no anzi non c'è neanche bisogno di attendere perché la nave me l'hanno prodotta sono riusciti a farla in due minuti quindi io questa nave a parte che voglio vederla adesso la andiamo a vedere comunque io adesso a questa nave prendo vado informazioni anzi vorrei anche comunicarci giusto così per farvi vedere chi la guida salve ah ecco dai seminario sul pilotaggio ecco un'altra cosa molto importante io ho comprato senza sapere che cosa servisse questi nell'inventario ho comprato il seminario di pilotaggio che costano una stupidata io gli do un seminario magari migliorano anche come conoscenza di guida insomma poi guidi anche una stazione media quindi vabbè glielo do dopo o vediamo glielo do subito vediamo gli do il seminario vabbè ascolta e adesso io non so se lui sta andando adesso a fare chissà che cosa però informazioni penso la nave aprimi la nave ok ok già qua comportamento vedete quello che sta facendo comportamento auto estrazione del settore lo sta già facendo ma no vedete stavo per fare una cavolata in mane perché l'ho data probabilmente anche al tizio sbagliato l'ho data la nave che era appena attaccata vabbè comunque la cagata l'ho fatta però pensate sul gioco ci ho passato 30 ore ma non so ancora niente e non ho fatto praticamente nulla quindi vabbè questa è la nave grande da il la vanguard vado su informazioni ci sono molti più dati di prima ma vabbè configurazione gruppi da mia stazione media gli dico mantieni in posizione no gli dico auto estrazione nel settore merce il silicio settore terra argono se no clicco e ne seleziono un altro insomma bisognerebbe posizionare delle sonde delle boe su ogni settore vicino a ogni raffineria insomma per tenere ad occhio un pochino i prezzi e vendere in quello più favorevole però come si configura poi una nave di questo tipo per andare nella boa che ci segnala il prezzo di vendita migliore quello lo ignoro assolutamente comunque questa nave qui ha una stiva l'altra aveva una stiva di 2600 adesso io gli ho dato l'ordine quindi adesso si alzerà e inizierà ad andare a fare quello che deve infatti sta salpando vedete quello che sta facendo ora è salpare ok questa qua è una nave da 9.800 9.800 contro i 2.600 se non ricordo male delle altre navi quindi è molto figo questa cosa 2.600 si vedete qua carico quindi ora cosa facciamo me la sto prendendo molto scialla però voglio mettere il punto sulla mia nave nuova voglio vedere cosa sta facendo voglio vedere anche come è fatta da vicino quanto è grossa quindi attivo l'assistenza dobbiamo poi anche fare attenzione perché c'è anche il rischio di andare a diciamo pestare i piedi a qualcuno quindi ora mi fa prendere l'autostrada che probabilmente la prendono anche loro per tornare qui però è molto comoda tra l'altro un'altra cosa che mi stavo dimenticando di dirvi mi sto perdendo in mille cose di cui vorrei parlare mi dice di uscire tra 90 km vediamo 80 70 60 50 40 30 20 10 e ci dà lì per via ok eccola là allora se abbiamo dei pirati è un problema nostro nel senso dobbiamo non è che il gioco ci avverte se viene distrutta vedremo la notifica e se non ce ne accorgiamo diamo nel log perché non vediamo più la nave e vedremo che è stata distrutta un'altra cosa interessante è questa autostrada vedete io l'ho percorsa tutta ma ho fatto fare questo giro ma in realtà non è tutto qua al mondo questa autostrada fa fare dei giri diciamo tra alcuni sistemi ora la nave non saprei dire fa un botto di velocità quindi devo inserire la modalità di viaggio per raggiungerla voglio andare vicino a vederla mentre sta minando e voglio anche vedere ma ipoteticamente dovrebbe guadagnare molto di più quindi adesso io aspetterò i guadagni bella davvero molto carina come nave mi sorpasserà infatti ecco vedete sta scavando e andrà a riempire la stiva ipoteticamente se sui 36.000 intanto sta facendo il suo lavoro molto bravo ipoteticamente se con 26.000 facciamo 30.000 più o meno per 4 120.000 100.000 ok pensate tra i navi così 300.000 400.000 ogni 6 minuti quindi è già un inizio che non è niente rispetto a quello che poi ci servirà in futuro per costruire una stazione però è un inizio di business perché poi ho iniziato ad allargarvi io che mi sono sempre lamentato magari dei limiti che hanno tanti giochi gestionali in cui si amministrano che so autisti o roba del genere come ad esempio un Eurotrack so che non c'entra nulla però il voler amministrare un'attività e trovare il gioco troppo semplificato è sempre stato un problema per me questo gioco permette di creare un po' il business che volete però dovete anche avere un po' di intuizione un po' di iniziativa tra 20 e 10 esce adesso da lì per via ok molto bello lì lì per via lo trovo un po' una roba un po' così però l'avevano introdotta già non so se anche in Xtre mi pare di no in Xtre è brutta di sicuro però è utile ovunque per non cercare ogni volta il portale muoversi rapidamente è una tecnologia che anche lì ha delle radici nel background è un background e storia che cerco di recuperare da tempo perché la storia è veramente molto molto intricata ma nessuno finora ha saputo consigliarmi un posto dove andare online a leggermi tutto ok atterriamo qui e aspettiamo il risponso della consegna vediamo quanto abbiamo guadagnato intanto adesso quando ci fermiamo e atterriamo vedremo in alto a sinistra in alto a sinistra l'importo il nostro possesso appena atterriamo vedete abbiamo 379.000 avevamo 900.000 qualcosa prima e abbiamo speso tutto per questa nave ora potremmo aspettare investimenti cioè aspettare i guadagni e investirli adesso qua abbiamo la courier che sta ancora scavando che ha appena consegnato l'altra courier pure la nostra navetta qui sta riempiendo la stiva ne ha caricati 200 quindi ci sta mettendo effettivamente un po' non so se poi sia un fatto di trivella o cosa comunque ci metterà un po' può avere anche delle navi attraccate questa nave ma facciamo una prova io adesso prendo una delle mie navi la courier clicco col destro sulla nave no 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 non possiamo salirci no 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 infatti ora niente restiamo in attesa stacchiamo ok no adesso ha fatto 6640 ora mettiamo tutto in attesa insomma e ci rivediamo quando questa nave verrà a consegnare e vedremo il guadagno intanto siamo 679.000 379.000 scusate vediamo dopo la consegna di quella nave anche più o meno quanto quanto si guadagna ok la nave ha preso l'autostrada è arrivata qui è completamente piena adesso non so che manola stia facendo sicuramente le navi guidate dalla IA sono meno dinamiche di come la guidare io il pilota avremmo vedere un attimo ma magari pilota abilità 2 ah ok mi sa che Ale l'ha letto lui allora il la guida di che ho mandato ovviamente quello che dovete tenere in considerazione è che le altre navi possono essere come vi ho già detto soggette ad attacco di pirati quindi se una nave pensate che la state mandando in una zona un po' infatti qua abilità una uno e l'altra che la sto sorpassando di brutto due anche lui ah vabbè abilità dell'equiparato vabbè se pensate che state portando una nave in una zona pericolosa il gioco non è che ve lo dice dovete arrivarci cioè se io adesso mi prendessi una nave costosissima per minare e gas piuttosto che altro e voglio stare tranquillo mi compro una o due navi caccia piccole magari ben equipaggiate e gli dico seguite sempre lei e lei scava e loro la seguono e può essere una cosa in più che vi studiate ora stiamo gestendo un micro business perché stiamo scavando e vendendo a una stazione può capitare qua io credo di sì non ne sono sicuro e chiedo anche qui i giocatori più esperti che questa stazione possa da un giorno all'altro magari anche fallire perché se leggiamo nel log tante stanno costruendo stazioni in giro per i sistemi di questa galassia quindi la stazione potrebbe anche fallire potrebbe cambiare un pochino l'economia potrebbe qui è tutto argon gli argon potrebbero entrare in guerra con qualcuno subire l'attacco di qualcuno e questa stazione esplode buon fine la zona qui rimane senza silicio quindi chi produce i processori microchip qua non ha più un fornitore di wafer di silicio e potrebbe essere un problema a quel punto si potrebbe investire magari appunto in questo facendo un prezzo comunque più alto insomma loro lo comprano un prezzo però sicuramente poi va ad aumentare dovrebbe atterrare ora qua vicino la nostra nave dovrebbe atterrare qua vicino ma non l'ho vista è una nave media quindi dovrebbe andare bene anche questa zona qui credo si dovrebbe essere atterrata la davanti vediamo se e poi andiamo a vedere anche il guadagno che ci ha portato vediamo se riusciamo a vederla da qui è atterrata là in fondo credo se non è già andata via si è sulla eccola ah c'è il mio logo figata mamma mia che bella bellissima è mia tra l'altro pensate per quando sarà mia tutta una stazione bene scaricate vendete mi piacerebbe salirci però questa lo lasciamo magari un altro gameplay poi non vado a fare sto lavoro millatore è bellissima però e sti cazzi 139.000 139.000 pensate di averne due o tre o quattro fare comunque l'obiettivo sarebbe fare un milione ogni tot minuti così almeno però comunque il guadagno non è male anche perché se pensate che adesso andiamo a vedere ma dovrebbe dovrebbe esserci comunque un buon guadagno ora abbiamo fatto 139.000 un minuto fa quattro minuti fa 36 36 quindi 72 37 70 74 74 abbiamo fatto 200.000 negli ultimi cinque minuti sì queste 10 minuti ci mettono più o meno di navi e l'altra ce ne metterà un po' di più quindi insomma questo è un inizio alternativo cioè non è alternativo è conseguente a quello che fate scavando gli asteroidi che rimane comunque l'attività più redditizia ma noiosissima veramente girate le ore e spesso senza trovare senza trovare molto quindi subito dopo aver fatto magari un milione e mezzo diciamo due per star sicuri iniziate con le piccole navi e vi create una piccola fonte di reddito poi potete iniziare a pensare di fare anche la quest principale che devo ancora rifare per l'ennesima volta quella della stazione del quartier generale della nave da acquistare da mandare nel buco nero insomma nell'anomalia insomma e così via spero di aver rifatto cosa gradita di aver riportato questa mia prima esperienza perché non sono un giocatore esperto assolutamente però insomma mi va sempre di parlare parlo sempre volentieri di questi giochi spero di avervi intrattenuto bene e alla prossima e ciao ciao